ciao a tutti e bentornati sul canale oggi un nuovo video recensione voglio parlarvi di alcuni prodotti dolci sto parlando di cioccolata ho provato queste barrette e ho provato anche quelle della nuvi non ho la confezione ma vi trovo la foto e ve la lascio qui in sovraimpressione posso fare il paragone con tutte e tre questa è la perugina ed è la perugina ed è la nero fondente extra al pistacchio mentre quest'altra è della lint ed è lint excellence orange intense ovviamente sono tutti i prodotti fondenti anche quelli della nuvi della nuvi ho provato la nero nero al gusto di lampone e quella l'ho provata a ottobre del 2016 quando sono usciti appunto con quella linea nero nero ho provato quella al lampone ed era formidabile buonissima non l'ho più ritrovata quindi sono stata fortunata ad essere riuscita a trovare almeno una e l'ho pagata quella della nuvi costa 1 euro e 39 centesimi ed è una barretta da 75 grammi ho assaggiato anche quella all'arancia la nero nero all'arancia e mandorle e poi la nero nero alla menta allora le mie preferite sono sicuramente la menta e il lampone la menta l'ho provata anche quella una sola volta e però è finita subito cioè non ho capito perché ma l'ipercop non non la rifornisce quelle sono per me il top finora nessuno ha battuto quelle e per questo motivo ho voluto provare questi altri due marchi non ricordo gli ingredienti della nero nero quindi non posso dirveli però posso dirvi gli ingredienti di questi due ovviamente io e consumo prodotti fondente perché non dovrebbero contenere lattosio anche se sulle confezioni molto spesso c'è scritto potrebbe contenere tracce di latte all'interno però di questi due prodotti io ho letto che c'è un ingrediente ed è uguale in entrambi i casi che è il burro ora ve lo dico il burro anidro il burro anidro l'ho cercato online e ho scoperto essere comunque un derivato del latte perché si appunto deriva dal burro per questo motivo diciamo all'inizio ho tentennato un po il primo prodotto che io ho acquistato è stato questo e quando mi sono resa conto che conteneva questo tipo di burro mi sono spaventata e ho ne ho assaggiato un piccolo pezzetto ho fatto la mia solita prova grazie a dio è andata bene dico grazie a dio perché di solito se c'è traccia di latte io sto male e di conseguenza ho continuato e quando l'ho letto anche nella confezione della lint ovviamente ho detto ok proveremo a fare la prova assaggio un pezzettino e andiamo avanti allora iniziamo la recensione per quanto riguarda la confezione della perugina questa è la nero fondente extra pistacchio solo con puro cacao allora dicono qui gli ingredienti sono cioccolato fondente extra con granella di pistacchio ingredienti zucchero pasta di cacao granella di pistacchio caramellato e salato 12 per cento pistacchio 7 per cento sul totale del prodotto zucchero aromi sale burro di cacao burro ed è scritto a lettere maiuscole con diciamo in grassetto burro anidro emulsionante le citine di girasole aromi cacao 48 per cento minimo nel cioccolato fondente può contenere altra frutta a guscio senza glutine perché questo è un prodotto senza glutine conservare il nuovo fresco e asciutto lontano da fonti di calore ed è da 100 grammi questa confezione è buono il cioccolato al fondente il cioccolato perugina quindi ottimo ma non si sente il pistacchio mi fate il cioccolato al pistacchio signori perugina mi fate il cioccolato al gusto di pistacchio con i pezzettini di pistacchio eccetera non da di pistacchio il gusto al cioccolato è molto forte ma il sapore del pistacchio non si sente è buono si è buona cioccolata però pistacchio praticamente pari a zero il 12 per cento dicono loro ma onestamente si sente veramente poco quindi non posso dargli un voto basso nel senso che comunque non non me la sento di dire che non vale il prodotto è buono ma non da di pistacchio fuori uno passiamo all'altro lint eccolo qua l'ind excellence quindi comunque un prodotto della linea excellence diciamo un cioccolato importante noir perché è nero cioccolato fondente con arancia e mandorle ingredienti zucchero pasta di cacao preparazione d'arance 7 per cento arance 34 per cento zucchero mele fibre di ananas regolatori di acidità sarebbe l'acido citrico agente gelificante alginato di sodio stabilizzanti fosfati di calcio e aroma mandorle 7 per cento burro di cacao burro anidro e anche questa volta è scritto in grassetto emulsionante la lecitina di soia a rome può contenere nocciole latte nocciole latte ovviamente scritto in grassetto cioccolato amaro cacao 48 per cento minimo sì perché effettivamente non è amaro 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 è un cioccolato fondente ripeto molto buono preferisco il gusto però di questo qui quindi preferisco il gusto del perugina rispetto a questo nella linta ma si sente l'arancia e si sentono le mandorline infatti i pezzettini di mandorla e di arancia ce li si ritrova in giro per la bocca però il sapore è buono e se vi piace l'arancia con questo andate sul sicuro tra i due questo va benissimo perché è un buon cioccolato fondente mi piace tantissimo il cioccolato perugina questo un po meno qui però il pistacchio non si sente qui l'arancia si sente ed è buono se io però devo fare il paragone in realtà lo devo fare su tre cioccolati e cioè anche sul cioccolato della novi quindi con la linea nero nero a questo sempre 100 grammi la confezione sempre da 100 grammi come questa qui mentre quello della novi è un po più piccolina e se non ricordo male da 75 grammi tra novi perugina e lint farei proprio questa scala novi al primo posto secondo posto perugina terzo posto lint come cioccolato fondente per quanto riguarda il gusto all'interno del cioccolato del nero nero al primo posto sicuramente ci metto il nero nero ai lamponi al secondo il nero nero alla menta è buonissimo lascia un aroma di menta di fresco in bocca che è fantastico e contrasta ovviamente con il cioccolato fondente e al terzo posto di quelli posso metterci quello all'arancia perché è buono ma in quel caso preferisco gli altri due non vi ho detto i prezzi ho pagato queste due 1 euro e 99 l'una mentre quello della novi li ho pagati 1 euro e 39 l'uno ovviamente poi nei periodi in cui ci sono le promozioni sul cioccolato quello sta in base al supermercato che tipo di promozione mette e vanno a periodo il mio video termina qui spero che vi sia piaciuto lasciatemi tanti pollici in su mi raccomando iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti per non perdere i prossimi video e soprattutto seguitemi sui canali social ve li lascio qui in sovraimpressione ciao e al prossimo video ciao